Ciao, ti sei per caso mai chiesta o chiesta come lavorare a meglio i tuoi glutei? Quali esercizi fare? Che tipo di progressione fare? E che scheda permette un ottimo sviluppo? Magari hai paura di non aver compreso bene gli esercizi corretti? Quale scegliere in base alle carenze o in base alla persona che ho davanti? Vuoi magari comprendere meglio come proporre a questo gruppo muscolare un allenamento ottimale? Vuoi addirittura 24 settimane di specializzazione glutei? In Biprogram trovi tutto questo, è un videocorso che parla solo di glutei. All'interno avrai una lista di esercizi, la spiegazione di tutti gli esercizi, avrai una lista anche di tips sull'anca, sul piede, sul bacino, avrai dei programmi specifici per la durata di 24 settimane con la spiegazione dettagliata del programma. Potrai ovviamente scaricare il tuo programma sul cellulare, sul computer, stampare la scheda. Questo programma è fatto anche per essere modificato in base alle tue carenze, in base a ciò che hai, alle attrezzature, in base agli esercizi che percepisci meglio. Insomma, Biprogram è una figata pazzesca. Sono più di 4 ore di videocorso, sono un programma di circa 6 mesi per i glutei ed è adatto sia agli appassionati e appassionate ovviamente, sia ai tecnici che vogliono capire come lavorare meglio i glutei, prendere spunto e vedere gli esercizi nella loro complessità. C'è anche tutta una parte di cultura generale, un approfondimento sull'anatomia, un approfondimento sulla classificazione degli esercizi e un approfondimento su che tipo di esercizi scegliere per andare a sviluppare varie zone dei glutei. Non mi resta che salutarti, ti aspetto qui dentro. Sono più di 4 ore, 6 mesi di lavoro, tanta 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 carne al fuoco. Ci vediamo presto, ciao! Ciao!